Fuggiti dalla guerra in Ucraina, sono circa 800 i profughi che a Montesilvano hanno trovato una sistemazione tra strutture alberghiere e alloggi privati. Al Paladin Martin, dove sono stati allestiti il centro di raccolta di beni di prima necessità e l'ufficio informazioni per i profughi, sono circa una quarantina i cittadini ucraini che ogni giorno ricevono assistenza e trovano risposte ai loro tanti interrogativi. Il vice sindaco di Montesilvano, Paolo Cilli, ci spiega quali sono le attività gestite dal centro allestito al Paladin Martin. Diciamo che l'attività è quella di cercare di dare un sostegno a queste persone che arrivano dall'Ucraina e che possono venire e servirsi sia del personale che gli dà una mano anche a livello psicologico, gestionale per le varie questioni che gli si potrebbero porre davanti e soprattutto per distribuire alimenti e vestiario per queste persone che sono dovute scappare in fretta e in furia dalla guerra. Gli orari di questo centro raccolta quali sono? Il centro di raccolta è il martedì e il venerdì dalle 15 alle 19, mentre il centro di accoglienza, quindi per le informazioni, aperto tutte le mattine dalle 9 alle 13, è sempre il martedì e il venerdì dalle 15 alle 19. C'è una richiesta particolare di latte in polvere? Il problema è questo, è che molte persone ci hanno portato già del latte in polvere, però ci sono poi delle esigenze specifiche e particolari, magari di qualche bambino che è allergico, che ha altri tipi di problemi e quindi deve utilizzare un latte medicale, chiamiamolo così. Finora ci siamo appoggiati a delle associazioni, delle realtà che hanno comprato questo materiale e ce lo hanno portato. Stiamo cercando in questi giorni di vedere se riusciamo a fare una sorta di spesa sospesa nelle farmacie che ci possa consentire al momento di necessità di poter prendere questi latti specifici e consegnarli direttamente alla persona a cui necessitano. Tra i tanti volontari impegnati nell'accoglienza al Paladin Martin c'è anche Elena, in Italia da oltre 20 anni, che ora presta volontariato linguistico ai profughi nell'ufficio informazioni e al nostro microfono racconta la disperazione di chi è rimasto in Ucraina. Sì, ce l'ho in Ucraina la famiglia, il figlio, i due nipoti. Cosa raccontano? Io non sto a parte dove ci sono le battaglie, sto a vicino la Romania, che ancora non era bombardata, ma sempre le serene e queste, una cosa è molto grave, spaventosa, bambini hanno paura. Dice nonna, nonna, mi dico non hai paura, dice, eh nonna, già mi sono abituata un po', è così. Vedendo le cose, non si può dire. Spero, prima devo finire. È senza aiuto, è difficile che noi battiamo da soli, è difficile. È difficile, è difficile vedere le cose quando ti è sterminato le tute. Le città, le bambini, che è la gente che scappa, ma è impossibile. Non si può dire. Non ho parole. Non ho parole.